Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Code a tratti in A11 tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Segnalato personale su strada in A1 tra Aglio e Calenzano in entrambe le direzioni. In A12 personale su strada tra Massa e Versilia. Prudenza per i mezzi in viaggio verso Livorno al chilometro 125. Per lavori fino a venerdì 10 maggio il raccordo siena Firenze sarà chiuso in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Poggi Ponsi Sud e Colle Valdelsa Nord dalle 21.30 alle 6 del giorno successivo. Deviazioni segnalate in loco. Dalle ore 21 di oggi sabato 4 maggio alle ore 21 di domani 5 maggio è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo ferroviario dello Stato italiano di Italo e Trenord. Modifica il servizio anche prima dell'inizio e dopo la conclusione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!